Nel concerto tenutosi sabato 12 agosto all'Arena della Versilia al Cinquale, Sfera e Basta ha incantato il pubblico di giovanissimi con la sua energia e le sue hit cattivanti. L'artista ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel coinvolgere la folla, creando un'atmosfera di festa e celebrazione. L'evento ha rappresentato un vero e proprio trionfo per Sfera e Basta, suggellando il suo status di icona della musica contemporanea. Il Festival Canoro all'Arena della Versilia si concluderà in bellezza venerdì 18 agosto con l'attesa esibizione di Lazza, cantante e pianista milanese che promette di regalare al pubblico dell'Arena un'esperienza indimenticabile. Il sindaco di Montignoso, Lorenzetti, si è dichiarato soddisfatto del risultato, affermando che l'evento ha rappresentato un impegno positivo verso i giovani della zona. L'entusiasmo dei partecipanti e il coinvolgimento del sindaco sottolineano l'importanza culturale ed economica dell'evento per la comunità locale. Dunque il Festival sta superando ogni aspettativa ed è per questo che il sindaco, aspettando l'ultimo impegno di venerdì 18, si ritiene più che soddisfatto proprio perché non è stato per niente facile, conclude, tenere in piedi un'organizzazione per 10.000 spettatori.